ciao ragazzi tutti mi chiedono come si monta un connettore f semplicissimo l'unico tensile da usare è una forbice d'elettricista adesso vi farò vedere un breve video su come montarlo per prima cosa spegniamo il cavo adesso prendiamo la calza la avvolgiamo togliamo la carta ecco qui facciamo la calza per bene speriamo l'anima cosa molto importante la calza non deve mai toccare l'anima adesso prendiamo il nostro connettore f da sapere che in base al cavo dobbiamo montare il connettore adeguato il cavo è da 5 perciò monteremo un connettore f da 5 esatto se ci vediamo qui tagliamo un pochettino ecco qui il nostro connettore